Dalla conferenza stampa di oggi un messaggio forte nei confronti del Partito Democratico. Certo, per noi la questione che investe l'amministrazione comunale è il suo vertice di carattere politico e morale e a fronte di quello che leggiamo sulla stampa nazionale, dai servizi delle Iene e quant'altro assistiamo a un silenzio totale del Partito Democratico, dei gruppi di maggioranza e dei due candidati alle primarie. Al quale diciamo, siccome entrambi, l'uno fa parte della squadra di governo e della giunta ancora oggi, l'altra ha ottenuto il sostegno pubblico per la sua candidatura e diciamo, dite cosa ne pensate, perché la questione è politica e morale e riguarda il futuro della città. Questo silenzio è un silenzio che li vede coinvolti. Silenzio vuol dire che condividono questo modo di governare. Ecco, la nostra sollecitazione va a loro e il Movimento 5 Stelle, che ha sempre fatto del giustizialismo una loro ragione, silenzio totale. Per quale motivo? Aspettano di evitare di mettere in discussione qualche accordo. A loro ci riferiamo perché i verbanesi hanno il diritto di conoscere la posizione di chi si avvicina a chiedere la fiducia dei verbanesi l'8 e il 9 di giugno. Noi, una cosa è certa, dal quadro che emerge dal servizio delle Iene e dalla stampa nazionale, il nostro modo di amministrare sarà di rapportarci con la macchina completamente l'opposto di quello che emerge. Deve valere il merito sicuramente. Questo è un esempio di malgoverno che per noi non è uno slogan elettorale ma è questo modo di fare e che noi contestiamo e che i cittadini verbanesi devono conoscere.